Da circa un anno la Fondazione L'Arsenale di Iseo, ente di cultura, ha un nuovo consiglio direttivo a presiederlo e Giovane Luca degli Innocenti, giornalista, che traccia con noi un bilancio di questo suo primo anno di lavoro. Esattamente un anno, sì. Da quando si è insiedato il nuovo consiglio di amministrazione, di cui io sono presidente, è un bilancio estremamente positivo, direi, perché abbiamo fatto inaugurazioni, tantissime inaugurazioni di mostre. Il nostro obiettivo era portare quanta più gente possibile all'Arsenale, ridare impulso alla cultura iseana e credo, spero, me lo auguro, di essere riuscito insieme a validi esponenti del consiglio di amministrazione in questo intento. E per il futuro tante altre iniziative per dare sempre un'offerta maggiore. Il futuro spero sia roseo, spero sia roseo perché abbiamo incontrato in questo anno, nonostante le difficoltà della crisi, e quindi si riflette ovviamente anche sulla cultura purtroppo, abbiamo incontrato invece piccole realtà locali, piccole, medie e grandi realtà locali, che hanno voluto investire in cultura, magari in contributi piccoli, ma per noi fondamentali per poter andare avanti e per poter fare sì che l'offerta dell'Arsenale sia sempre maggiore, sia sempre più variegata, sia sempre più interessante. Nel futuro dell'Arsenale c'è anche un obiettivo ambizioso, che è quello di far diventare questa struttura il cuore della cultura iseana, al di là di quello che oggi l'Arsenale già rappresenta per la cittadina. L'Arsenale spero che rappresenta un punto di gravità, un centro di gravità culturale permanente, perdonatemi la citazione, ma spero che sia così, nel senso che c'è bisogno di cultura, è un palazzo magnifico, è un palazzo che va curato ed è un palazzo che va curato con la cultura, portando dentro artisti di un certo livello, compatibilmente con quelle che sono le disponibilità finanziarie di una fondazione che deve fare anche i conti con i suoi bilanci e deve cercare di essere molto attenta, però cercando anche di aprire anche e soprattutto alle nuove generazioni. Si punta sempre più spesso anche ad inserire nelle classi che mostre nuove tecnologie, perché? L'Arsenale è qualcosa che cambia, l'Arsenale è qualcosa che c'è, l'Arsenale ha bisogno di tutti voi, ha bisogno della vostra presenza, ha bisogno della vostra vicinanza, delle vostre critiche, dei vostri apprezzamenti. L'Arsenale è qualcosa di vivo, perché Iseo è viva, culturalmente credo che sia un comune piuttosto vivo e noi stiamo cercando di dare il nostro contributo.